Si svolgerà a gennaio la prima edizione della Bologna Fashion Week, settimana dedicata all'alta moda in vari luoghi della città. Ci saranno sfilate in attesa di partire con l'evento vero e proprio l'altra sera, un'anticipazione. Vediamo. Sfilate di moda in vari luoghi della città, modelle che sfileranno con abiti firmati. E quanto accadrà a gennaio 2022 con la Bologna Fashion Week, promossa dalla Flatline Agency, obiettivo fare diventare Bologna un punto di riferimento della moda. Un'anticipazione è andata in scena l'altra sera alle stanze in via delle moline. Stasera siamo qua alle stanze di Bologna, abbiamo fatto una delle tante promozioni che avverranno sul territorio bolognese per il weekend della moda a gennaio 2022, con tutte le case più importanti di moda sia sul territorio bolognese che oltre, ELA Stylist Makeup Artist, sempre e comunque dalla ELA Air Agency di Milano, con tutte le nostre ragazze, soprattutto a livello di case moda, alta moda bolognese, Laura Bignamento, con i loro punti vendita. Un grande appuntamento da non perdere l'ultimo weekend per veramente consacrare la città nel mondo della moda. Abbiamo preparato il terreno in qualche modo nel corso di questi mesi, ma credo che sarà poi un 2022 splendido sotto questo profilo. Noi vogliamo tornare a vivere e la moda è qualcosa di magico. Ci sono delle ragazze incantevoli, dei capi di abbigliamento prestigiosi e tanta gente che ha voglia di sorridere, di mangiare. Sì, perché no, anche di assemblarsi in condizioni di sicurezza. E noi lo stiamo facendo perché la cosa basilare della Flatline Agency che organizza questi eventi è di miscelare la prudenza, l'attenzione e la sicurezza con la bellezza femminile e con i capi di abbigliamento. Perché se vogliamo un futuro sereno dobbiamo essere nelle condizioni migliori. E allora questa osmosi perfetta ci permetterà di vivere un fantastico weekend a fine gennaio 2022 nelle più belle location della città. Perché questa sarà la Bologna Fashion Week. Bologna diventerà una capitale? Non lo so, forse un giorno, ma intanto il punto di riferimento della moda. Ed è tutto, grazie e buona giornata a tutti voi. Da oggi l'informazione di ETV Rete7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone. E potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.